Si avvicina uno degli eventi più attesi e iconici dell'anno per i pesaresi, ovvero la Fiera di San Nicola, che quest'anno ha fatto subito parlare di sé ancora prima di iniziare. Tra le polemiche sui social riguardanti la locandina per l'evento, i giorni in cui si terrà la manifestazione, ovvero il 10, 11, 12 settembre, che non vedono quindi nessun weekend nel mezzo, e chi invece, parlando della fiera, torna bambino e ricorda di quando quest'ultima si svolgeva nel centro storico, anziché tra la palla e il viale. Abbiamo così raccolto alcune voci che commentano la fiera in programma per questo 2024, ma che soprattutto ci riportano indietro alle fiere del passato. La fiera ha sempre attirato gente, gente verrà anche se rimandato, eccetera, eccetera, di cui da curiosità è quella che conta. Mi auguro, come tutte le altre volte, essere stata simpatica, ben messa, anche come coreografia. La città non è che ne soffre tanto, perché, oddio, la gente ci sarà sempre la sera, quelli che lavorano, per carità, la sera vengono. Però, diciamo, anche avere una festività nel mezzo, tipo fine settimana, così, sarebbe ancora meglio. Dipende dal comune, da tante cose. Io adesso non sono un po' afferrato dentro su queste cose, però mi piacerebbe più anche un weekend che tutta la settimana senza festa. Qui nella zona della palla ci sono tutte le cipolle intorno, è vero? È contro i vampiri praticamente, all'aglio, cipolla, un po' di tutto, via. Prima, vabbè, adesso abbiamo coperto la palla di pomodoro, ormai è una vita che la conoscono, adesso, anche la cipolla lì per una volta non fa male, dai. Queste vie qui le facevano, quando noi eravamo ragazzini, ed era solo per i bambini, c'erano solo giocattoli, le pistole acqua, i fucilini. Sì, c'era la piazza del popolo e la via, il corso 11 settembre, la fiera si faceva lì tutti gli anni. A volte lì era la via dei negozi, c'erano tutti i negozi alimentari, qui invece c'erano le stoffe, i calzoni, quella roba lì. La maggior parte erano giocattoli, era per i bambini, noi lo aspettavamo perché si comprava la pistola acqua, poi si faceva la battaglia, adesso tutto abbigliamento, tutto, diciamo, tutti per carità, è bello.